buongiorno celebrando oggi la memoria di san barnaba apostolo compagno di paolo e dei primi apostoli nella comunità primitiva uno che ha dato la vita per annunciare il vangelo siamo invitati a lodare dio per tutti coloro che ancora oggi si sentono chiamati e rispondono generosamente con un sito talizzante per diventare annunciatori e testimoni della buona notizia nel capitolo 10 di matteo i versetti dal 7 al 13 viene raccontato l'invio missionario che gesù fa appunto ai suoi apostoli e che si caratterizza per una totale gratuità gratuitamente avete ricevuto gratuitamente date e di fatto la esortazione di gesù riguarda il tutto della persona lasciare da parte qualsiasi sicurezza fosse anche di cibo o di dimora per affidarsi alla providenza che accompagna come ha già fatto perché chi si sente mandato è uno che ha riconosciuto di essere già stato preso in carico dall'amore misericordioso e gratuito di dio per cui in fondo si fida di quanto ha già provato e crede che possa essere uno stile che continua per tutta la vita lasciare tutto per essere totalmente dedicati all'annuncio alla predicazione alla guarigione dei malati alla consolazione di coloro che soffrono addirittura a sperimentare i prodigi della risurrezione dei morti dei miracoli che non sono nient'altro che conferme della presenza dello spirito di dio nell'azione dell'apostolo non cerchiamo miracoli non cerchiamo prodigi cerchiamo solo di restituire quello che abbiamo ricevuto ed è veramente necessario che anche oggi nella chiesa vi siano uomini e donne cieli binubili consacrati ma anche sposati o famiglie che scendano di dare tutto per tutto solo all'annuncio del vangelo non che il lavoro o le occupazioni del mondo siano necessariamente distrazioni o siano qualcosa che non riguarda il vangelo ma è anche vero che ci sono delle persone che per poter dedicarsi a pieno e soprattutto ai fratelli per testimoniare l'amore ricevuto lasciano anche quanto è più normale e più consueto per poter essere totalmente dediti alla buona novella di Gesù c'è da pregare perché continuino vocazioni di consacrati di missionari di persone e famiglie e coppie totalmente donate perché il vangelo se non è annunciato non può diffondersi in quanto non è una favola non è una teoria non è una magia ma è la trasmissione meravigliosa di una testimonianza di un'esperienza d'incontro che chi ha fatto come Barnaba sentendosi amato gratis non può che dare agli altri per contagiarli della stessa meravigliosa storia d'amore buona giornata